Sul tavolo ci sono i tanti problemi legati al periodo di crisi dei due anni di pandemia, tra l'altro ancora presente seppur fuori dal periodo emergenziale. E ora i movimenti turistici dall'est Europa e soprattutto dalla Russia praticamente azzerati a causa della guerra. Dovrà affrontarli Fabio Cenni, titolare dell'hotel Ercolini e Savi di Monticatini, dal 2015 presidente a Sotel Confesercenti della provincia di Pistoia, dallo scorso 5 maggio ne è divenuto anche presidente regionale. L'assemblea elettiva di Assotel Toscana, riuniti a sia a Firenze lo ha eletto, raccoglie così il testimone da Anna Duchini, che per due mandati ha guidato l'associazione di categoria. Chiaramente la città sta soffrendo molto di più, le grandi città, Firenze, Monticatini di rimbalzo di Firenze, diversamente stanno reagendo le città, le destinazioni più turistiche all'aria aperta, il mare, la montagna, la montagna Pistoiese per esempio ha lavorato molto bene nell'ultimo periodo, quindi ogni zona chiaramente alle sue peculiarità, che piano piano andrò a scoprire, a conoscere e cercare di aiutarli appunto a livello regionale. Sul fronte locale parliamo di Valdinevole, in particolare di Monticatini, il neopresidente, che per ancora un anno rimane responsabile anche di Assotel Provinciale. C'è un fronte da dover considerare. La concorrenza di Firenze sulla capacità di accoglienza alla città gigliata infatti si fornerà di ulteriori 7.900 posti letto. Se consideriamo che Monticatini, che conosco bene, ha 10.000 posti letto e 7.000 nuovi ne nascono a Firenze, potrebbe essere veramente un problema. E su questo Monticatini cosa deve fare? Monticatini di per sé deve cercare di rilanciarsi un prodotto e non vivere soltanto come troppo pieno di Firenze, come rimbalzo di una Firenze piena. Chiaramente più riesce a essere indipendente dal punto di vista dell'attrattività turistica e più riuscirà a smarcarsi da problemi di questo tipo che è costretta solo a subirli passivamente. C'è un futuro più o meno rosio nel prossimo futuro o nel futuro quando? Vabbè, diciamo che il fondo penso che si sia toccato, quindi immagino che di sicuro una ricrescita c'è. Siamo ancora molto lontano dal 2019, l'ultimo anno d'oro, dove siamo arrivati al momento siamo circa un 30% rispetto a quell'anno. Quindi di recupero c'è ancora tanto da fare. Poteva andare peggio sicuramente, poteva andare meglio per esempio se non ci fosse stata la guerra.